Ragazzi, guardate, sono... Qui... Cos'è l'altro? Resid... Idiot... Residiot... Ragazzi, allora... No, allora... Buttiamo lei... Tutti lei d'accordo? Decidiamo lei... ... ... Assim... ... ... ... ... Stora... ... ... mi sto uccidendo raga raga adesso mi sta uccidendo mi sto uccidendo è l'impostore guardate raga è l'impostore è l'impostore no non è l'impostore mi sembra sono io ci fermiamo un attimo non è l'impostore